Bene amici o novità oggi parliamo di invalidi parziali totali accompagno frequenze eccetera eccetera e nello specifico delle grandi manovre per la prossima manovra. Vediamo quindi i prossimi aumenti per equazioni e rivalutazioni arretrati con guagli le rivalutazioni extra promesse poco fa proprio da ministra e maggioranza. Insomma tabella alla mano e nuovi importi soprattutto alla mano iniziamo subito io sono mister lul a e c'è un sondagione finale molto molto importante. Quindi nel 2023 c'è stata una grande delusione cosciente perché il governo come sappiamo ha deciso di escludere le pensioni di invalidità dall'aumento straordinario dall'aumento extra che invece ha riguardato le pensioni minime. Ecco nella prossima manovra le cose potrebbero cambiare questo potrebbero questo perché la maggioranza si è impegnata se vi ricordate con una risoluzione che ricordo però non essere vincolante ad approvare un intervento di incremento extra come fatto proprio appunto per le minime anche per le pensioni di invalidità. Vediamo però subito gli importi nuovi e le tabelle nuove partendo da quello che è sicuro infatti a gennaio arriveranno nell'ordine per primo gli arretrati dello 0 8 per cento relativi al 2022 con 12 mesi di arretrati da gennaio a dicembre. Poi oltre a questo conguaglino di rivalutazione arriverà anche la perequazione presunta 2023 si parla di un indice istat che potrebbe essere fissato intorno al 5,4 per cento attivate ora la campanella delle notifiche così vi avviso appena uscirà il tasso ufficiale. Detto questo come vedete senza quindi andare ad applicare ancora alcuna rivalutazione extra l'importo dell'assegno andrebbe a passare dai 313 o 324 attuali 2023 324 con la maggiorazione di 10 euro e 33 insomma l'assegno passerebbe a circa nel 2024 333 o 343 di conseguenza 333 circa anche per la frequenza minori mentre per l'accompagno chi lo sa visto che segue regole tutte sue di rivalutazione con umori di imps e governo. Se invece nella nota di aggiornamento del DEF che arriverà entro fine settembre dovesse prendere corpo a essere stabilita anche una rivalutazione extra come previsto per le minime nel 2024 che sarà del 2,7 per cento beh applicando anche questo extra l'assegno potrà arrivare a 343 o 353 insomma nulla di risolutivo rivoluzionario nemmeno dovesse essere previsto questo surplus di rivalutazione sempre troppo 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 decisamente troppo poco quindi chiedo a voi quale dovrebbe essere per legge il minimo dell'assegno di invalidità civile 500 600 700 per garantire un'esistenza minimamente dignitosa come prevederebbe la nostra costituzione. Detto questo fatemi sapere assolutamente la vostra nei commenti io vi avviso appena escono le percentuali definitive ufficiali la Nadef così rimaniamo aggiornati su tutto in mantinente. Un abbraccio alla prossima da Mr. Lull